andrea innanzitutto bentornato la prima domanda è d'obbligo come stai grazie sto bene molto bene ora nei prossimi giorni ci sarà piano piano un rientro in squadra per tornare insomma a assaporare il campo insieme ai compagni e sto bene dai il peggio è passato sono a cinque mesi adesso manca ancora l'ultimo step e nei prossimi 10 12 giorni dovrei rientrare a piano regime col gruppo allo stato attuale c'è qualche speranza piccola di vederti in campo in queste ultime gare magari nelle ultimissime ma è una domanda un po difficile perché dovremmo valutare una volta rientrato un gruppo perché comunque allenarsi da solo è sempre diverso perché comunque i ritmi che che fai durante l'allenamento insieme agli altri compagni sono diversi però ad oggi sto sto veramente molto bene però detto dovremo valutare tra tra una decina di giorni sappiamo che sei un ragazzo molto modesto ma sabato il presidente ha ribadito ancora una volta di aver costruito la squadra attorno a te e quindi il tuo infortunio è stato un peso grandissimo anche tu questa sensazione purtroppo sì lo so che comunque sin da agosto la società va ribadito che che quest'anno sarebbe stato tra virgolette il mio anno no perché sarei stato il giocatore su cui avevano puntato maggiormente purtroppo il destino voleva che mi infortunassi gravemente e quindi secondo me anche la squadra ne ha ne ha risentito di conseguenza ovviamente perché magari quando il giocatore più importante viene a mancare per diversi mesi ovviamente qualcosa qualcosa ne ha definito cioè anche la squadra ne ha risentito come hai visto la squadra da fuori stato sfortunato come te anche il tuo compagno rossetti e in particolar modo come giudichi il rendimento di coloro che sono arrivati a sostituirti a gennaio monachello e ganze anche lorenzo è stato sfortunato perché nella stessa gara ci siamo fatti male gravemente entrambi quindi è stato sfortunato anche lui per quanto riguarda i nuovi compagni secondo me non era facile prima di tutto perché quando si fa un trasferimento a gennaio non è mai facile subentrare in una squadra soprattutto magari in una piazza come Ascoli che è abbastanza impegnativa però io penso che che stiano dando il 100% e penso che sia giusto così e poi dal punto di vista dei risultati in campo penso che c'è chi più chi meno stia rendendo per quello che può rendere che gruppo hai ritrovato e che morale c'è dopo la bellissima vittoria di Cremona e in vista dell'importantissimo match interno col Perugia ma io penso che la vittoria di sabato abbia dato diciamo dal punto di vista morale una carica in più per affrontare la partita di sabato che sarà molto difficile perché affronteremo una squadra molto forte con con giocatori importanti per la categoria però penso che che la partita di sabato debba essere un punto di partenza per queste ultime cinque finali che andremo ad affrontare sappiamo che comunque il destino è nelle nostre mani perché abbiamo degli scontri diretti importanti con con dirette concorrenti e quindi speriamo di essere sulla buona strada La proprietà più volte dichiarato che il tuo futuro sarà la Juventus possiamo comunque in caso di salvezza rivederti c'è qualche possibilità di rivederti anche l'anno prossimo con la maglia dell'ascolio non lo so e ti dico la verità in questo momento non lo so e non mi va di pensare troppo troppo in là perché ti assicuro che dopo cinque mesi passati da solo comunque ad allenarsi insomma di pensieri ne ho fatti tanti e ho solo voglia di riprendere in mano la mia carriera perché comunque è un infortunio importante questo voglio ritornare ai miei livelli comunque avete imparato a conoscermi sapete un po come sono fatto sono uno che lavora tanto e continuerò a farlo da adesso in poi per il resto non so quello che succederà